L'addetto mobili in scenografia è atteso in teatro. Ma chi l'ha chiamato? Arrivo, non è che qua siamo... Come l'hai detto? È arrivata l'addetto. Ma chi gliel'ha detto? Me l'hanno detto. Ma cosa? Avete detto mobili? Non l'ho detto io, comunque sì, si è sentito mobili. E allora, cadi il dendino, lo metti sotto il cuscino, vieni il topolino e ti porti il soldino. Ma che c'è tra quei mobili? È una credenza. Allora, vado? Devi andare, devi andare. Io non lo sopporto.